L'avventura di Domenico Franco al Cesena è finita dopo appena una stagione in bianco-nero. Sono 22 le presenze raccolte dal centrocampista in campionato e una in Coppa Italia di Serie C, due le reti con la maglia del cavalluccio addosso, la prima nel 3-3 esterno con la fermana e la seconda firma della vittoria importantissima per la salvezza a Vicenza con l'Arzignano. Il suo procuratore Giovanni Tateo ha annunciato così la recessione contrattuale per motivi personali. Facciamo la risoluzione oggi pomeriggio. Consensuale quindi? Sì. Ci sono altre offerte per il giocatore? Può già dire dove potrà andare? Sinceramente ancora no, valuteremo le soluzioni che stiamo portando. Ecco, quindi il motivo di questa risoluzione? Niente, non era più il caso di proseguire per motivi personali del ragazzo. Perché se voleva per questioni personali si dovrebbe avvicinare a casa. Potrebbe essere anche Salerno la piazza giusta? No.